che mi è stata data per venire a Como. So che non è facile ripartire perché molto semplicemente con i tempi siamo molto stretti, ma sono convinto che nelle difficoltà se ci si mette impegno e professionalità si può veramente fare qualcosa di importante, soprattutto con una società blasonata come è il Como. Adesso poi ci organizzeremo anche per fare credo degli Open Day, se è possibile già settimana prossima e da lì poi partiremo con il programma.